Siamo qui con Alessia Capelletti, è finito questo derby veramente bello con la serentina femminile. Tra l'altro sei stata protagonista di una parata eccezionale su rigore battuto da Sabatino. Quali sono state le tue emozioni in questa gara? Quello che ho pensato è stato alle mie compagne, perché abbiamo fatto tanta fatica a giocare questa partita. Cioè sapevamo che sarebbe stata tosta e tanto io la preparavamo e ci tenevamo tantissimo in tutti gli sforzi che comunque abbiamo fatto tutte. Si vedono anche in queste piccole cose, quindi l'ho parato io perché c'ero io, ma in realtà è stata tutta la squadra che era lì con me. Quindi l'emozione è stata quella per loro, poi alla fine quando tutti mi hanno abbracciato è stato davvero bello. Ecco, la tua stagione fino ad oggi, come era Valti? Sei contenta di questo percorso che hai fatto? No, sono molto soddisfatta. Comunque siamo un quarto in classifica ed è un risultato ottimo. L'anno scorso ho fatto un campionato diverso, quindi ora chiaramente sto puntando in alto con l'Empoli, anche con me voglio sempre essere decisiva giornata dopo giornata. Oggi avrei voluto anche prendere il primo gol, sinceramente, pararlo così da portare a casa i tre punti. Quindi sicuramente ho grandi ambizioni e soprattutto con questa società, con questo scudetto. Ecco, a proposito della società, sei stata anche emozionata a vestire questa maglia in questa occasione? Sì, sì, questa maglia è bellissima, mi piace un sacco, poi il centenario non capita tutti gli anni, quindi sicuramente ci ha dato qualcosa in più. Ecco, ecco.